Amici di 8 Channel, buon pomeriggio da Francesco Carluccio, siamo a Lavello, stadio Pisicchio, test amichevole tra il Benevento e il Lavello che è iniziato proprio in questo momento, con pagine di eccellenza, quella che si contrappone oggi ai giallorossi di Mr. Auteri che come al solito però non potrà presenziare in panchina, al suo posto Cassia. Andiamo subito a leggere le formazioni prima di dare un approfondimento anche sulla compagine che oggi è contrapposta proprio ai giallorossi. Il Benevento si schiera con il 3-4-3 e Piscitelli tra i pali, Porcaro, Vitiello e Mattera nella linea difensiva. A centrocampo Melara, De Falco, Marano e Som, mentre Marotta, Mazzeo e Campagnacci saranno le tre punte. Il Lavello intanto seguiamo l'azione offensiva del Benevento che viene subito interrotta dalla difesa di casa. Il Lavello dicevamo si schiera invece con un 3-5-2 con Russo Lillo tra i pali, Marotta, Di Cugno, Santarziero a formare il terzetto difensivo. Gammone, Martinez, Curci, Lopez, Grassi e Zuccaro a centrocampo e Lorusso e Chiumarullo in attacco. Vitiello ha appena girato la palla a Mattera che verticalizza per Melara. Il cross al centro viene subito ribattuto, respinto dalla difesa del Lavello. Si sarà rimessa laterale subito per i giallorossi in una zona offensiva. Lavello oggi privo di diversi elementi risparmiati in vista del primo impegno ufficiale della squadra di Mr. Caprioli che domenica affronterà il Rio Nero in trasferta per il primo turno di Coppa Italia d'eccellenza. C'è subito però questa bella verticalizzazione della squadra di Maia Bianca con Lorusso che prova ad andare via. Viene fermato regolarmente da Vitiello che batte subito la rimessa laterale poggiando prima a Mattera che a sua volta gira per Porcaro. Ora Somm in verticale per Marotta. Vede lo scatto di Marotta a Somm. Uno contro uno sul versante sinistro. Mette a sedere l'avversario. Cross al centro per nessuno però perché Mazzeo si era inserito con qualche centimetro di troppo. Aveva già avanzato ulteriormente il raggio d'azione. L'attaccante ex Nocerina. Adesso proprio Mazzeo pesca Campagnacci. Il tiro di Campagnacci da due passi con il destro. Un'occasione da gol ghiotta per il Benevento al terzo minuto. Campagnacci ben pescato da Mazzeo. Una bella verticalizzazione. Un bell'assist quello di Mazzeo per Campagnacci che però ha sbagliato la mira da due passi. Solitamente segna questi gol l'ex attaccante della Regina. In questo caso la mira è stata imprecisa. La palla viene gestita dal Lavello. Porcaro interrompe subito la trama di gioco della squadra di Caprioli. Adesso Somm. Per Marotta che lascia sfilare a Campagnacci. Bello il lavoro in fase di interdizione di Curci che fa subito ripartire l'azione. Adesso Lopez Grassi perde palla però perché De Falco la fa sua e la smista per Mazzeo. Melara per Marotta. De Falco ancora in verticale per Melara. Respinge la difesa del Lavello. Marano. Campagnacci. Piatto destro per Somm. Sguardo al centro. Vediamo se prova il cross. Poi passa corto a Mazzeo. Non si trova con Campagnacci. Si scusa Mazzeo. È stato attemporizzato un po' troppo prima di dare il pallone al compagno. Adesso Vitiello riparte dalle retrovie. De Falco ancora per Vitiello. Somm. Stop di Suola e poi passaggio a Porcaro. Palla girata per Vitiello. Mattera. Verticale per Mazzeo. Scambio con Barotta. Palla allargata per Melara. Solito spunto di Melara. Conquista il fondo. Poi viene fermato. Vince un rimpallo. Crossa al centro. Esce male. In questo caso Russo Lillo. Viene però salvato da un intervento difensivo. Se non va tirato di Curci. Ci sarà calcio d'angolo per il Benevento. Se ne incaricherà Campagnacci. Versante sinistro. Traiettore a rientrare. Vediamo però. C'è anche l'opportunità del corner corto. Visto che Somm si era proposto. Opportunità che rientra subito però alla base. Perché il calcio d'angolo viene battuto al centro. Bella traiettoria quella di Campagnacci. La palla viene allontanata in fallo laterale. Per l'ennesima volta dalla difesa del Lavello. Come prevedibile in questi primi cinque minuti di gioco. Si gioca ad una porta sola. D'altro canto è stato chiaro la vigilia Caprioli. Marano non riesce a trovare un compagno di squadra al centro dell'area. Dicevamo Caprioli era stato chiaro. Mancheranno diversi effettivi. Li voglio risparmiare. Darò spazio a numerosi giovani in questo pomeriggio di gala. Possiamo definirlo così per il Lavello. L'ultima uscita amichevole prima degli impegni ufficiali tra Coppa e Campionato. Anche il Campionato d'Eccellenza inizierà il prossimo 6 settembre. Così come, o almeno speriamo, il 6 settembre inizierà anche quello di Lega Pro. C'è una punizione adesso per il Lavello che prova a farsi vedere in zona avanzata. Bella questa idea di marotta, il marotta del Lavello, per non fraintenderci, che aveva provato a pescare sulla corsia Gammone. Tanto per cambiare però. L'interdizione della difesa giallorossa aveva funzionato alla perfezione. Adesso la palla è di nuovo tra i piedi di Vitiello. Porcaro. Fa un movimento Campagnacci, riceve palla. Poi l'appoggia a De Falco che vede Mazzeo. Ancora per Campagnacci. Bella azione del Benevento. Attenzione a Campagnacci solo davanti a Russo Lillo. Tempo reggia troppo. Poi a porta vuota Mazzeo, rimpallato il suo tiro. Ancora Mazzeo. Palla resta lì, un po' di confusione. E il Lavello in qualche modo se la cava. Adesso spazza via la difesa maglia bianca. Subisce anche fallo. Lorusso. Fermato all'altezza della tre quarti difensiva. Benevento che non riesce a trovare la via del gol. Pur costruendo al settimo minuto già due o tre occasioni per i giallorossi. Almeno due e mezzo se vogliamo essere pignoli. Adesso Matera per Marotta. Si ferma Marotta. Guardo a qualche compagno libero. Trova Mazzeo. Poi Melara. Subisce un colpo Melara. Colpo alla caviglia per Melara. C'è il fallo, calcio di punizione. che verrà battuto dalla destra. Probabilmente proprio da Mazzeo. che è già sul pallone. L'arbitro fa rispettare la distanza. Soliti convenevoli insomma. Prima di questa battuta al centro. Ci sono Marano, Marotta. C'è anche Porcaro che ha segnato con la cavese. Il suo primo gol in giallorosso. Pur non trattandosi di gara ufficiale. Attenzione perché c'è la parabola di Mazzeo al centro. È partito con il sinistro Mazzeo. Russolillo chiama palla. Poi sbaglia l'uscita. E per poco non ne stava approfittando. Matera che era sul secondo palo. Ben appostato. Ma ancora una volta il muro difensivo del Lavello ha fatto sì che la squadra di casa non subisse gol. In questo caso è Somm che deve vedersela con un avversario, Chiumarullo. Alla meglio Chiumarullo. Poi è il Lavello che prova a girare palla a centro campo. C'è Gammone. La palla è lunga. Piscitelli esce bene. C'è anche fuori gioco del numero 10. Lorusso. Ben pescato da Gammone. C'era però fuori gioco come abbiamo avuto modo di vedere. L'azione è già ripartita. Quindi Marotta. Passaggio per Melara. In verticale sulla fascia destra per Mazzeo. Palla ancora per Marotta. Scambiano molto i due oggi. La difesa del Lavello però sbroia ancora una volta la matassa. e fa ripartire nuovamente l'azione dalle retrovie. Entrambe le squadre oggi si schierano con la difesa a tre. Ovviamente la differenza tecnica è notevole. Ora prova una giocata. Lopez Grassi. Trova lo sbocco per darla ad un compagno. In questo caso Curci. Inserito all'ultimo momento al posto di Sant'Arsiero al centro del campo c'è stato qualche qualche cambiamento dell'allenatore della squadra di casa che ha preferito non rischiare proprio all'ultimo momento per un risentimento innocenti. Aveva avvertito dolore nel riscaldamento. Il difensore lo stopper dell'Avello e l'allenatore ha preferito non rischiarlo. Melara pallone per Marotta serie di finte di Marotta cross al centro c'è Campagnacci che si inserisce stop di petto e ancora una volta però l'azione si perde questa volta in fallo laterale c'è già sommo sul pallone vediamo se provvederà ad una rimessa lunga al centro dell'area oppure pescherà un inserimento ecco qui che c'è Campagnacci che riceve subisce fallo l'arbitro però non si ne ravvede concede una semplice rimessa laterale ancora una volta di colore giallo-rosso il pallone arriva in questo momento si tratta di calcio d'angolo in realtà arriva in questo momento a Campagnacci che lo posiziona sulla sulla lunetta a Campagnacci cross al centro Marotta prova a disturbare la difesa del Lavello dopo il tiro è di Melara il rimpallo è il solito è il solito anche il calcio d'angolo dall'altro lato però si sposta qualche metro e quindi in compensa che viene data a Mazzeo ma al suo sinistro quindi soliti saltatori al centro dell'area restano dietro i soli Vitiello e Somme per il resto c'è traffico nell'area del Lavello cross al centro di Mazzea sul primo palo esterno della rete colpito da Marano si era proposto lui nella spizzata si segnala anche questa occasione quindi per il Benevento quando siamo al dodicesimo minuto in corso 0-0 il risultato al pisicchio di Lavello al rinvio Russo Lillo con il sinistro non un gran che a dire il vero ci pensa Lopez Grassi però a liberare per Gammone pallone dalle parti di Marotta spiovente che però premia la difesa del Lavello poi una disattenzione Marotta è sempre l'inaguato viene fermato e non viene premiato dal rimpallo a sua volta c'è però Campagnacci per Somm Porcaro Vitiello la palla è per Mattera cambia gioco sulla sinistra per Somm anzi per Campagnacci visto il velo del camerunese Vitiello apertura sulla destra per Melara tenta la fuga Melara viene fermato in questo caso da Zuccaro in fallo laterale ecco che proprio Melara va a prendere il pallone a concederlo quindi per la rimessa a Mattera Mazzeo di Petto viene anticipato però al momento del secondo controllo da Marotta riparte il Lavello di Falco però intuisce l'azione le intenzioni della squadra di casa il passaggio per Campagnacci è buono l'idea di Campagnacci è un po' meno c'è la difesa in maglia bianca che riesce in qualche modo a liberare l'area conquista una rimessa laterale del Lavello sulla corsia destra difensiva rifiata quindi la squadra di Caprioli principio Caprioli che è tornato ad allenare il Lavello dopo le esperienze del 2004 e del 2006 nella vecchia società prima del fallimento c'è la palla lunga attenzione perché c'è il numero 10 che va in fuga attenzione uno contro uno con Piscitelli il tiro di Lorusso viene murato da Piscitelli in calcio d'angolo in realtà in sospettissima posizione di fuorigioco Lorusso ha lasciato correre in questo caso l'arbitro sarà calcio d'angolo per il Lavello che si è fatto vedere quindi per la prima volta al 14esimo minuto davanti alla porta dell'estremo difensore Lombardo con il battuto corto se ne va ancora Lorusso almeno ci prova su Somm che oggi indossa un inedito numero 11 e Matera far ripartire l'azione da Vitiello in posizione di difensore centrale Porcaro invece lui agisce sul centro-sinistra Somm si libera di due avversari poi la appoggia a Porcaro all'indietro quindi Vitiello bello questo attacco di Mazzio a liberare Marotta che subisce fallo Vitiello non rinuncia alla costruzione del gioco nonostante la posizione arretrata una sorta di play basso Vitiello considerando che i piedi ci sono il ruolo anche ha ricoperto quella posizione quando giocava con la maglia quando vestiva la maglia del Catanzaro una divisa a tre Mauteri ha detto più volte che il ruolo ritagliato per Vitiello è quello di centrocampista centrale le alternative lì non mancano proprio per questo la rosa dovrà essere per forza di cose sfoltita in un certo senso rientra proprio in quest'ottica la cessione ormai definita di Somm e di Agei alla Casertana un altro iniziato a partire dovrebbe essere Somm vedremo nei prossimi giorni nelle prossime ore di mercato che sono anche le ultime visto che la sessione estiva volge al termine come si evolverà la situazione in quanto il Benevento ha deciso di di adeguarsi alle normative relative agli under quindi 24 elementi in rosa di cui 5 under 21 e in questo caso in questo momento sarebbero il terzo portiere Calvaruso Porcaro Bonifazzi Di Molfetta e Troiani che è appena arrivato nel nel Sannio ricordiamo che Troiani è anche in panchina andiamo a riepilogare visto che non l'abbiamo fatto in precedenza anche i giocatori in panchina per il per il Benevento che sono Gori Gioff Troiani Cruciani Ciciretti Mucciante e Sissè la pala adesso è gestita da Lopez Grassi che ha qualche difficoltà però c'è un 3 contro 2 per il lavello possibile azione pericolosa della squadra di casa il tiro viene smorzato ed è preda di Piscitelli se non è liberato dovrebbe essere stato Zuccaro a provare la conclusione i numeri non sono evidenti come potete vedere dalle immagini sulle maglie del lavello un po' di difficoltà c'è Marotta cucchiaio per Mazzeo i giri non sono giustissimi Mazzeo ringrazia ma si lamenta allo stesso tempo era una buona occasione per verticalizzare quindi battere a rete in questo caso però le cose non sono andate bene ricordiamo che il punteggio è ancora di 0-0 stranamente diciottesimo minuto di gioco somma di testa per De Falco Marano si libera del numero 10 Cilorrusso poi da Mattera Mazzeo in spaccata Marotta non si dà mai per vinto ma perde palla in questo caso Lopez Grassi per un compagno che non c'è c'è invece Vitiello che appoggia a Somma Campagnacci Somma vede Mazzeo stavolta il pallone è preciso poi Mazzeo per Campagnacci pensa al tiro Campagnacci per un attimo poi viene murato dalla difesa questa volta in modo scorretto dovrebbe essere stato stantarziero ad impedirgli di calciare a rete ci sarà una punizione da posizione interessante per il Benevento sul pallone ci sono Mazzeo Campagnacci e De Falco ad intuito diremmo che sarà Campagnacci a calciare restano infatti De Falco e Campagnacci e resta probabilmente in questo momento solo Campagnacci intuizione giusta tiro di Campagnacci la traversa salva Russo Lillo grande conclusione esecuzione di Campagnacci che con il destro a girare aveva pescato l'angolo giusto per qualche millimetro però non è riuscito a trovare il gol è un Benevento che è abbonato a questo punto ai legni su punizione dopo i due di Mazzeo nelle precedenti amichevoli ora anche Campagnacci Somm cambio di gioco preciso per Melara controllo di Melara viene fermato dal terzino sinistro Zuccaro del del Avello l'azione riparte da dietro quindi per il Benevento Somm Marotta ancora per Somm corsia sinistra conquista il fondo poi conquista corner perché è stato bravo il solito Santarsiero ad opporsi all'iniziativa del terzino camerunese il pallone viene calciato corto da Campagnacci poi Somm di sinistro al centro pallone liberato ancora una volta dalla difesa del Avello poi Cincischia Mattera si fa rubare palla e commette anche fallo dopo sul diretto avversario ancora un'iniziativa del Avello attenzione perché Somm viene preso in contro tempo e c'è un cross al centro e un tentativo di liberare l'area di Vitiello un po' maldestro ha rischiato l'autorete Vitiello era stato Santarsiero a crossare la palla in corner l'ennesimo per il Lavello si comunque sta dimostrando personalità con diverse situazioni di contropiede soprattutto il cross al centro la palla viene allontanata da Marotta di testa quindi Somm Mazzeo sulla sinistra per Campagnacci pallone però troppo fuori misura e l'esterno offensivo giallorosso non può raggiungerlo 22 minuti di gioco 0 a 0 tra Lavello e Benevento rimesta laterale battuta dai calciatori di casa ora bella questa combinazione in attacco tra Lopes Grassi e Lorusso che non conquista però neanche il corner si riparte da una rimessa dal fondo Piscitelli Vitiello sulla sinistra per Somm pallone in verticale per Campagnacci che poi fa velo per Marotta attenzione perché c'è l'inserimento di Mazzeo parte con i tempi giusti anzi no inizialmente era andato in fuorigioco Mazzeo poi ha provato a recuperare terreno l'arbitro gli sta facendo notare proprio questo in quel caso si è trattato di posizione irregolare fuorigioco di rientro di Mazzeo almeno questo è quanto segnalato dal direttore di cara Marano spezza l'iniziativa del Lavello poi Gammone palla lunga troppo un po' pretenzioso però pretenzioso però questo passaggio per il numero 9 Chiumarullo e la palla termina tra le mani di Piscitelli che la smista per Matera poi De Falco leziosissimo in questo in questo caso si fa ingolosire dal passaggio veloce perde palla da quel lato Zuccaro crossa al centro Piscitelli non ha problemi a bloccarla e quindi a girarla per Somme controllo di Somme in totale tranquillità cerca un po' di movimento poi è costretto a ripartire da Vitiello numerosi palloni giocati dal dal calciatore partenopeo tutte le azioni del Benevento praticamente sono passate dai suoi piedi fino a questo momento abbiamo detto in una inedita posizione di centrale difensivo ma in molti casi anche di regista basso di tacco Zuccaro in rimessa laterale Matera per De Falco poi Somme controllo di Somme guarda Porcaro che viene servito De Falco e lui adesso a gestire palla Marotta scambio nello stretto con Campagnacci ancora Marotta ancora finte di Marotta va via due avversari poi viene steso in un primo momento però il Marotta del Lavello era intervenuto sul pallone l'arbitro ha preferito non punire poi è stato il Diablo è stato autenticamente falciato senza però che venisse fischiata punizione l'arbitro ha deciso di premiare il primo intervento quello sul pallone in questo caso però non premia l'iniziativa dell'Avello fermato fuori gioco nella persona di Lorusso e ora De Falco per Marano Mazzeo Benevento comunque inoffensivo negli ultimi dieci minuti soprattutto considerato che siamo al venticinquesimo e siamo sul punteggio di 0 a 0 Porcaro con il destro a cercare e trovare Mazzeo bella trama quella di Porcaro poi Mazzeo trova il calcio d'angolo aveva provato il dribbling non gli è andata bene il calcio d'angolo sarà ancora una volta abbattuto da Campagnacci che riceve proprio in questo momento il pallone solito mucchio in area di rigore del Lavello destro di Campagnacci stavolta battuta imprecisa abbastanza fiacca sommo per Matera di nuovo per Campagnacci Matera non ha però nelle corde questi passaggi si è visto proprio in questo momento l'arbitro chiama l'ingresso in campo dei sanitari vediamo se arriva perché c'è il numero 10 Lorusso a terra vediamo se si riprende semplicemente dalla rimessa c'è bisogno dell'intervento dei sanitari da bordo campo si rialza senza problemi Lorusso e quindi Russo Lillo andrà al rinvio al solito rinvio con il destro stavolta meglio di prima va detto quello del portiere del Lavello c'è fallo di De Falco centro campo su Chiumarullo lancio lungo all'indirizzo di Zuccaro che viene però anticipato da Melara Poi Mattera per Mazzeo numero di Mazzeo cerca il De Vai con Marano poi viene firmato punizione per il Benevento battuta corta proprio da Mazzeo per Mattera di De Falco Porcaro avanza palla al piede poi passa a Vitiello verticalizzazione per Mazzeo gioco veloce per Marotta la palla arriva in qualche modo a Melara tacco per Marano ancora per Marotta gioco viene interrotto però c'è un giocatore del Lavello a terra e quindi in questo caso inevitabile interrompere il gioco ne approfittano i giocatori del Benevento per rinfrescarsi soprattutto Marano qui le temperature sono altissime a Lavello giornata di sole giornata tipica tipicamente estiva il Lavello che ha tenuto bene il campo fino a questo momento si è difeso egregiamente rischiando il giusto in realtà considerando anche il dislivello la discrepanza tecnica tra le due squadre tra i due organici probabilmente la scelta di Euteri sarà anche in questo caso quella di schierare soli 11 al massimo 12 calciatori in questa amichevole per poi puntare su altri 11 totalmente opposti nell'amichevole che si risputerà al Cirovico Rito con il Torrecuso di domani il 27 agosto quindi Marotta viene ben controllato dal diretto avversario si gira bene poi Somm gira bene per l'ora il Benevento nello stretto Marotta ha restituito il pallone a Campagnacci che è consigliato a ripartire da dietro e quindi da Porcaro poi perde Falco questo pallone che viene giostrato sulla destra a Melara il cross al centro di Marano è da dimenticare però si era inserito bene il calciatore il centro camista del Benevento qui recrimina per un presunto atterramento in area si rialza poi il lavello esce bene può quindi rifiatare e ripartire da un calcio di punizione era stato poi in seguito Marano a commettere fallo nel rientrare sul diretto avversario siamo alla mezz'ora di gioco 0-0 il punteggio al Pisicchio con il lavello in possesso di palla prova difficoltà però la squadra di casa iscritta al campionato di eccellenza a girare la sfera e quindi il Benevento già dall'altro lato Somm ha provato il cross basso al centro dal versante sinistro nessuno però a centroare è stato pronto ad accoglierlo accoglie la sfera invece adesso Porcaro che con la rimessa laterale ha preferito affidarsi a Vitiello senza usare più di tanto pallone lungo di Porcaro che stavolta invece osa nel cercare un movimento delle punte che non c'è abbastanza statici in questo caso sia Mazzeo che Marotta ma va detto che la palla di Porcaro era abbastanza irraggiungibile per tutti Lorusso a cercare il numero 9 Chiumarullo il solito Vitiello però è riuscito a stoppare la manovra qui c'è un po' di confusione in zona difensiva per il Lavello per fortuna del numero 5 Sant'Arziero non c'era nessun attaccante del Benevento pronto ad intervenire in zona occhio che c'è un duello tra Porcaro e Chiumarullo lo vince il giovane classe 97 del Benevento oggi con il numero 3 e fa ripartire l'azione mi smatch a livello fisico tra Chiumarullo e Porcaro adesso è Mazzeo che prova con un numero a liberarsi di Zuccaro non ci riesce poi Zuccaro allontana il pallone sui piedi di Marano il tiro di Marano smorzato con qualche difficoltà Russo Lillo però riesce a bloccare in due tempi e ora farà partire il rinvio lungo all'indirizzo di Chiumarullo salta però in controtempo troppo in anticipo ed è pane per i denti di Somme che poi lo sovrasta a livello fisico non è una giornata facile indubbiamente per gli attaccanti del del Lavello Matera lancia lungo per Marotta l'anticipo di Marotta e poi di conseguenza la deviazione dovrebbe essere stata di Cugno in calcio d'angolo ne ha battuti tantissimi il Benevento senza però trovare mai la via del gol al massimo qualche uscita sprovveduta di Russo Lillo o l'esterno della rete come nel caso di Marano nella prima parte di Frazione va ancora Mazzeo con il sinistro cross al centro attenzione perché saltano in tanti poi rischiano il pasticcio difensori del Lavello che si salvano in qualche modo ancora una volta Russo Lillo era stato un po' lezioso nell'uscita non ne ha approfittato nessuno al centro dell'area nel cuore dell'area c'erano diversi calciatori giallorossi ma nessuno è riuscito ad approfittarne qui in questo caso invece Melara ha pensato male di toccare di testa il pallone all'indirizzo di Mazzeo lanciandolo in verticale ma così facendo ha pregiudicato il passaggio in verticale del passaggio filtrante che era giunto da Marano se non vado errato e quindi sarà un'altra rimessa dal fondo per Russo Lillo che l'ha appena battuta De Falco anticipato in un primo momento e poi è costretto a rinunciare al possesso della palla perché il numero 4 Gambone è stato steso all'altezza del centrocampo c'è Marotta che prova di inseguire la sfera deve vedersela con il diretto avversario poi lo supera serie di finte di Marotta poi viene viene messo giù non c'è calcio di rigore un rigore parso nettissimo a dire il vero in presa diretta l'arbitro ha deciso di non concederlo Marotta era andato benissimo via al diretto avversario doveva essere proprio Gambone il numero 4 poi dopo essersene liberato ha provato ad entrare praticamente in porta con il pallone va detto ma è stato steso niente da fare per la concessione del penalty nonostante le proteste del Diablo il Lavello che prova a prendere coraggio da questa situazione gli uomini di Caprioli stanno in un certo senso compiando una piccola impresa attenzione perché c'è questo passaggio lungo all'indirizzo del numero 11 Lopez Grassi o meglio del numero 4 proprio Gamone che viene intercettato da Piscitelli in uscita a bloccare la sfera Porcaro palla lunga ancora in precisa ancora in precisa Porcaro che sta provando ad impostare spesso nonostante ci sia Vitiello che è sicuramente più adatto a questa fase di costruzione della manovra ora rischiano notevolmente i giocatori del Lavello Marotta nel tentativo di intercettare la sfera va a colpire il portiere di casa Russo Lillo che viene sgambettato un po' di nervosismo indubbiamente in questo momento Marotta sarà ancora nervoso per il penalty non concesso qualche minuto fa pallone lungo di Russo Lillo dicevamo una piccola impresa sicuramente quella del Lavello fino a questo momento perché siamo al 37esimo in corso e il punteggio ancora di 0 a 0 rete inviolate al Pisicchio adesso è proprio la squadra di casa che tenta un'iniziativa sul versante destro offensivo Gamone ha speso tantissimo in questo primo tempo Somma aveva controllato bene però su di lui ancora una volta Porcaro Somma Marano Vitiello poi Melara la palla viene intercettata dal centrocampo del Lavello fase un po' confusa di gioco in questo momento e il Benevento deve riordinare un po' con le idee Porcaro preso in contro tempo ha rischiato tantissimo in questo caso Matera ad affidarsi ai piedi del giovane giallorosso poi è riuscito brillantemente però il ragazzo di Arpaise a recuperare c'è un fuorigioco adesso fischiato i danni del Lavello e del numero tre Zuccaro che aveva provato in una maniera inedita ad inserirsi tra le maglie della difesa giallorossa aveva scelto però male i tempi che non sono quelli dell'attaccante o dell'incursore Zuccaro che è di professione terzino sinistro ricordiamo almeno così viene schierato da Caprioli nella giornata odierna Porcaro di fisico riesce ad avere la meglio su Chiumarullo poi il Benevento che va via sulla corsia destra Campagnacci Mazzeo deve girarsi Mazzeo il tiro di Mazzeo il sinistro è ciabattato palla sul fondo si prende anche qualche fischio del pubblico presente non tantissimi in realtà i tifosi presenti al Pisicchio la cittadina di 13.500 abitanti circa che poggia tantissimo sul lavoro sulla filiera prodotta dallo stabilimento Fiat che è nelle vicinanze abbiamo parlato nella giornata proprio di erano nelle ore immediatamente precedenti alla partita con uno dei dirigenti del Lavello ovvero Fabio Di Summo che ci aveva spiegato che sarebbe stato difficile trovare un buon riscontro di pubblico attenzione al centro perché c'è una una palla messa nel cuore dell'area da Melara e poi allontanata in angolo dicevamo perché durante la settimana difficilissimo che si possa assistere a un match amichevole in gran numero mentre per la trasferta di Rio Nero comunque nelle vicinanze i tifosi si sono già mobilitati saranno più di 200 a sostenere la squadra in quell'occasione c'è il destro di Campagnacci al centro per il calcio d'angolo del Benevento pallone ancora una volta allontanato c'è poca cattiveria al centro dell'area per gli attaccanti giallorossi insomma controllo un po' difettoso sulla trequarte offensiva poi Vitiello allarga tutto per Campagnacci che nel frattempo però si era a sua volta allargato troppo e non è riuscito a raggiungere il pallone il lancio era anche abbastanza fuori misura e Lopez Grassi era riuscito ad intervenire proprio Lopez Grassi adesso dall'altro lato non riesce però ad evitare che il Benevento giri palla con Marano adesso Mazzeo il tiro di Mazzeo ancora una volta deviato sarà calcio d'angolo sarà fatto trovare pronto l'attaccante giallorosso ma nel girarsi è stato abbastanza ha temporizzato ha temporizzato troppo e ha favorito il rientro di un difensore sarà proprio lui ad uscire in questo caso al posto di Campagnacci quindi la traiettoria al centro il cross c'è Vitiello che ha provato a saltare Matt era di testa alleggerisce per De Falco quindi Somm Mattera pallone sulla sinistra esce Russo Lillo dopo che era stato Mazzeo con un colpo di testa a provare l'assist per Marotta al centro dell'area Russo Lillo andrà quindi al rilancio lungo 41esimo in corso siamo quasi al 42esimo in realtà il punteggio è di 0-0 il rilancio di Russo Lillo ancora una volta però fuori misura e Porcaro con le mani può avvantaggiarsene pallone per Vitiello Mattera quindi Campagnacci Marano Melara Melara si libera di un avversario poi crossa al centro la pallarriva c'è Somm che indietreggia per Porcaro Vitiello ancora un pallone per Melara va via ancora una volta Melara conquista il fondo il cross al centro è basso contro la Campagnacci il tiro di Campagnacci un'ottima esecuzione rimpallata però dalla difesa e quindi Somm Benevento che adesso prova ad alzare il ritmo vuole chiudere in vantaggio il primo tempo Marotta colpisce di testa indisturbato il cross era debole non ha avuto non ha avuto la forza giusta Marotta per girarlo in porta o meglio in porta l'ha girato ma era troppo centrale debole la conclusione del Diablo per la parata di Russo Lillo parata comoda stavolta del portiere dell'Avello lo Russo Vitiello la lontana in rimista laterale due minuti e mezzo al termine dei 45 minuti di gioco Porcaro stavolta si fa superare commette fallo proprio dallo Russo ci sarà un calcio di punizione da posizione interessante per il Lavello Lopez Grazi sul pallone andrà con il sinistro pochi saltatori in in area per il Lavello cross al centro sembra buona la traiettoria Piscitelli esce bene e finisce con due minuti d'anticipo in realtà il primo tempo al 43esimo il duplice fischio dell'arbitro 0 a 0 e questa è la sorpresa tra Lavello e Benevento diverse occasioni da gol per i giallorossi soprattutto nella prima parte della frazione anche Lavello ha avuto le sue due opportunità però non sfruttate è stato bravo anche Piscitelli in un paio di casi ad allontanare la minaccia intanto linea alla pubblicità ci ritroviamo per il secondo tempo qui dal Pisicchio di Lavello tutto pronto per il secondo tempo dal Pisicchio di Lavello seconda frazione iniziata in questo momento ci sono diversi cambi in entrambe nella formazione di Lavello più che altro perché il Benevento ha riconfermato gli stessi undici almeno quanto vediamo in prima battuta del primo tempo la particolarità però è che diversi numeri del Lavello non sono variati nonostante siano variati gli interpreti quindi sarà un problema riconoscere i nuovi entrati Mazzèo è in possesso di palla sulla corsia di destra pallone al centro De Falco il tiro di De Falco è grandissimo gol di De Falco un destro perfetto del centrocampista giallorosso quando erano passati soltanto 34 secondi dall'inizio della seconda frazione ha deciso di mettere subito le cose in chiaro il Benevento in questo secondo tempo 1-0 gol di De Falco al minuto numero 1 e quindi in questo momento pronostico rispettato a differenza di quanto visto nella prima frazione in cui la squadra di casa ha tenuto il campo per uno 0-0 tutto sommato meritato vista l'inconcludenza degli attaccanti della strega Marotta ancora un passaggio per Melara il tiro di Melara la parata del portiere del Lavello che gioca con il numero 1 dovrebbe essere Russo Lillo ancora prendiamo tutto con il beneficio del dubbio quello che è certo è che c'è un calcio d'angolo per i giallorossi e che ha di incaricarsene Campagnacci crossa al centro sul secondo palo allontana la difesa del Lavello Vitiello crossa al centro di Vitiello perfetto per Porcaro che ha sfiorato il bis dopo il gol con la Cavese ha schiacciato troppo però la conclusione di Porcaro ma gli va dato atto di essere al posto giusto nel momento giusto ancora una volta come al Simonetta Lamberti questa volta però sul secondo palo da azione manovrata davvero un bel inserimento quello del difensore centrale che si trovava nei paraggi proprio in seguito al calcio d'angolo battuto pochi istanti prima da Campagnacci adesso prova un numero il Lavello a centro campo ma Marano non va da mezze misure e riconquista palla poi stende in un contrasto un giocatore della squadra di casa il numero 5 Santarziero che adesso zoppica vistosamente la palla è del Lavello che è ripartito da una rimessa laterale lo russo contro Matera il duello viene vinto dal difensore ex Casertana poi una serie di rimpalli favorisce il Lavello anche se da qui sembrava che l'ultimo tocco fosse stato del numero 3 Zuccaro in realtà la palla è ancora della squadra giallo-verde oggi in tenuta bianca qui c'è un contrasto tra Matera e lo russo alla peggio il giocatore del Benevento sia fisicamente che a livello di punizione visto che gli viene accordata e quindi Piscitelli può ripartire girando palla sulla sinistra per Porcaro in verticale per Marotta di punta verso De Falco e poi l'allargo però è fallito all'indirizzo di Somme ripartirà dunque il Lavello un Lavello che è ancora in attesa di conoscere gli avversari per il prossimo campionato di eccellenza la formulazione di gironi dei calendari si saprà solo nei prossimi giorni il campionato dovrebbe partire il 6 settembre ma in realtà nel caso dell'eccellenza è sicuramente diverso rispetto a quello della Lega Pro attenzione perché c'è Mazzeo che va in area di rigore si invola verso l'area poi cerca l'assist per Marotta l'assist che non arriva non vada a spese diciamo il numero 3 Zuccaro che regala un pallone alla comunità di Lavello buttandolo addirittura fuori dallo stadio e in rimessa laterale per il Benevento che riparte da Melara si gioca e questa è la curiosità che con i palloni della Lega Pro targati Puma quelli che verranno utilizzati nel prossimo campionato di Lega Pro e che quindi sono di proprietà del Benevento dicevamo che il Lavello è ancora in attesa di conoscere il calendario del suo raggruppamento di eccellenza lì la composizione del girone è sicuramente meno complessa rispetto a quella dei gironi di Lega Pro che sono stati invece composti proprio nelle ultime ore e che prevedono però diverse incognite ben due per il girone C quindi su 16 squadre su 18 squadre ben 16 sono note ma due verranno designate soltanto al termine del decorso della giustizia sportiva che vede coinvolti diversi club con il Benevento sono state inserite Acragas Casertana Catanzaro Cosenza Fidelistandria Foggia Ischia Juve Stabbia Lecce Lupa Castelleromani Martina Franca Matera Melfi Paganese e Vigor Lamezia in attesa di conoscere gli altri due nomi le altre due X che in realtà dalla Lega Pro sono state definite W e K visto che la X e la Y non sono rispettivamente nel girone B e nel girone A quindi nel raggruppamento centrale e nel raggruppamento settentrionale ora Somm va via sulla sinistra crossa al centro dall'altro lato c'è Melara visto che la palla era lunga per tutti uno contro uno di Melara va via Melara crossa al centro Campagnacci da Marotta ancora una serie di passaggi e poi si perde il Benevento come spesso è accaduto anche nel primo tempo passaggi di spalle alla porta nessuno riesce a girarsi con i tempi giusti e con la velocità giusta e la difesa del Lavello non ha difficoltà quindi a spazzare e ad allontanare la palla si riparte quindi da dietro e c'è De Falco in possesso della sfera verticalizzazione per Marotta uno sguardo ai compagni tentato dal servizio per Melara che arriva in questo momento scambio con Mazzeo Mazzeo si gira bene si libera i due avversari ma arretra il baricentro e quindi Lavello ancora una volta protagonista di un pallone rubato e di una verticalizzazione irraggiungibile però per il numero 9 Chiumarullo Piscitelli ha già fatto ripartire il Benevento con Porcaro poi De Falco e Marano Mattera pallone lungo per Mazzeo bella questa iniziativa Mazzeo però contro tre avversari fatica ad avere la meglio poi ci riesce l'arbitro segnala anche un calcio di punizione la punizione è in favore del Benevento Mazzeo è riuscito ad andare via in un primo momento poi è stato strattonato e gli è stata concessa anche questa punizione la buona posizione per un cross al centro solite operazioni di posizionamento della barriera vediamo cosa si inventerà il calciatore classe 83 un cross al centro che somiglia tanto a un tiro in realtà una conclusione all'altezza del primo palo dove c'era Melara non era molto potente ma una deviazione di Melara poteva essere decisiva in quel caso sarà proprio Mazzeo a battere il corner che è scaturito da questa occasione cross al centro anzi all'indietro verso Campagnacci che controlla e conclude palla sul fondo dopo un ottimo stop di petto Campagnacci ha approvato l'iniziativa era stato completamente dimenticato i difensori del Lavello non si aspettavano un'opzione del genere da parte di Mazzeo che in questo caso ha preferito non mettere la palla al centro ma pescare un compagno dalle retrovie anche Campagnacci era stato intelligente a non posizionarsi nel cuore dell'area come invece era accaduto in precedenza quando i corner erano stati battuti dal compagno di squadra rinvio di Russo Lillo pallone verso il numero tre Zuccaro che ha provato a verticalizzare poi la palla è arrivata in qualche modo ai centrocampisi del Lavello che hanno subito anche fallo in questo caso però non sono molto lucidi nel battere la punizione De Falcone approfitta adesso Marotta va via sulla corsia sinistra Marotta serie di finte Marotta entra in area poi decide per un lob il gol di Mazzeo che arriva dopo un tentativo di difendere la zona da parte della difesa del Lavello Marotta in realtà aveva provato il pallonetto per trovare la via del gol la strada gli era stata sbarrata e Mazzeo all'undicesimo approfittato di una situazione comoda di un tap-in che si è rivelato poi vincente da due passi Mazzeo non poteva proprio sbagliare all'undicesimo minuto quindi 2 a 0 per il Benevento undicesimo del secondo tempo lo ripetiamo perché la prima frazione si era conclusa con il punteggio di 0 a 0 aveva sbloccato la partita al primo della ripresa anzi dopo 34 secondi De Falco con una gran bordata dal limite un destro imparabile per Russo Lillo e adesso Mazzeo ha firmato il raddoppio attenzione Campagnacci il tiro di Campagnacci la palla che sfiora il palo alla sinistra di Russo Lillo che era uscito nel frattempo per provare a frapporsi tra il calciatore giallorosso e la porta adesso il rischio che si scateni la classica goleada perché le misure stanno un po' un po' scomparendo nella formazione di casa Marotta allarga per Mazzeo ancora un assist di Mazzeo Melara però un po' in ritardo nell'inserimento e adesso proprio Melara spinge l'avversario non c'è nessuna nessuna sanzione ha detto del direttore di gara e curiosamente proprio il giovane del Lavello che era finito a terra aveva anche trovato la linea bianca e si era macchiato le mani dovuto andare incontro ad un lavaggio rapido suggerito dal massaggiatore della squadra di casa c'è anche da segnalare questo gesto di fair play che avete appena visto con Melara che ammettendo tacitamente di aver commesso fallo ha restituito il pallone dalla rimessa laterale ai propri avversari un bel gesto di fair play si tratta di un amichevole come abbiamo detto il livello tecnico è sotto gli occhi di tutti anche se il risultato non lo direbbe Melara ha giustamente restituito il pallone agli avversari il fallo lo possiamo dire c'era ed era abbastanza netto l'arbitro era lontanissimo dal luogo in cui era stato commesso in cui si era verificata l'irregolarità ora ce n'è un'altra e questa è ben più pesante perché Mazzeo è stato vittima di un contrasto con il numero 8 Curci si è sentito anche il rumore del calcio rifilato a Mazzeo che adesso è a terra in attesa che venga battuta la punizione ricordiamo fa caldissimo è anche l'occasione per rifiatare un po' per i giocatori in campo soprattutto per quelli giallorossi che sono interamente stati riconfermati dopo la prima frazione ci avviamo verso il quindicesimo del primo tempo del secondo tempo con Marotta che prova a trovare il gol su punizione vuole battere a lui il Diablo lo farà con il destro parte adesso la conclusione di Marotta bella traiettoria la parata di Russo Lillo non era semplicissima è volato alla sua sinistra il portiere del Lavello concedendo solo corner al Benevento Marotta cerca con insistenza un gol che stenta ad arrivare vediamo se ci riesce adesso con Campagnacci che crossa al centro va Marotta proprio di testa non riesce a toccare la sfera sfiora soltanto pallone che arriva dalle parti di Mattera ancora per Campagnacci può dare là un'altra azione offensiva Campagnacci rimpallo poi di testa ancora la testa di De Falco ma stavolta è il Lavello con i suoi centrocampisti ad avere la meglio Marano verticalizzazione ancora della squadra di casa ancora fuori gioco però è la palla che torna in possesso del Benevento che può orchestrare una nuova manovra Matera Melara con il sinistro insomma Marotta ancora Campagnacci si trovano bene i due crossa al centro di Campagnacci una bella azione del Benevento interrotta dalla difesa del Lavello qui non si risparmiano nei contrasti i giocatori giallo-verdi in questo caso ad essere le vittime era stato somma contrasto però regolarissimo del gioco solo un po' più irruento rispetto ai canoni di un amichevole ora c'è una punizione per il Lavello tre quarti difensiva pallone lungo Matera corta per Melara si gira Melara ancora per Matera dialogo con i due adesso Vitiello De Falco insomma Mazzeo si gira bene viene fermato però da due avversari che vendono cara la pelle e Marotta poi commette fallo nel tentativo di riconquistare la sfera 16 e 30 sul cronometro 2 a 0 per il Benevento gol di De Falco e Mazzeo l'azione adesso riparte da Russo Lillo ma bisognerà invece farla ripartire con una punizione così ha deciso il direttore di gara e così sarà sarà Santarziero a rilanciare lungo cosa che è stata fatta in questo momento Porcaro fa buona guardia all'indietro per Piscitelli rinvio di Piscitelli e poi l'azione si perde una verticalizzazione debole che viene accolta a braccia aperte dal Benevento Melara Mazzeo in verticale verso Marotta Russo Lillo blocca senza problemi ora un po' di accademia del Benevento nella speranza di trovare i varchi giusti c'è l'inserimento sulla sinistra del numero 16 del Lavello Melara fa buona guardia quindi Mazzeo Marano numero 16 che dovrebbe essere richiuti quindi quindi Mattera per Vitiello Porcaro De Falco sulla sinistra all'indietro di Somme quindi Porcaro Vitiello Mattera avanza vede l'inserimento di Marotta che si propone ma il il passaggio è troppo lungo irraggiungibile per Marotta che ha messo proprio ad alta voce il suo compagno di non farcela più per scatti simili probabilmente inizio partita conoscendo Marotta ce l'avrebbe fatta tranquillamente raggiungere la sfera c'è l'ennesimo fallo laterale per il Benevento ritmi davvero troppo bassi con la squadra di Caprioli che ha rinunciato a qualsiasi attacco dal goal del 2 a 0 giallorosso quando si è avuto la sensazione che il Benevento potesse dilagare adesso Melara va via sulla destra Melara cross al centro sarà un altro calcio d'angolo dicevamo se prima almeno provava il contropiede il Lavello adesso o per mancanza di energie o per la differenza tecnica che abbiamo citato prima o per la paura di prendere la classica imbarcata i giocatori di casa stanno rinunciando a qualsiasi velleità e si stanno preoccupando più della fase difensiva Melara cross al centro anzi totalmente della fase difensiva voglio dire tutta cross al centro di Melara non aveva trovato nessuno aveva trovato Vitiello che è stato contrastato bene in calcio d'angolo dall'altro lato Mazzeo provvederà alla battuta intanto prosegue il Balzer di Cambi nella formazione del Lavello Caprioli aveva detto alla vigilia tenendo fede anche al suo ruolo di insegnante di educazione fisica la partita di oggi servirà a molti ragazzi per capire cosa vuol dire essere calciatori professionisti cosa vuol dire giocare ad un certo livello per capire magari anche se la strada futura potrebbe essere orientata al mondo del calcio è sicuramente un bel testo questo attenzione il cross al centro e c'è Porcaro c'è Porcaro che colpisce di testa segna il suo secondo gol in due partite praticamente facendo eccezione del test in famiglia disputato sabato pomeriggio ha segnato contro Cavese e contro il Lavello Porcaro che si sta rivelando davvero un un giocatore un difensore goliador altra bella soddisfazione per il ragazzo di Arpaise e al ventesimo anzi il ventunesimo il Benevento ha trovato il Tris con Porcaro bel colpo di testa su calcio d'angolo battuto da Mazzeo quando mancano super giù 20 minuti al termine ricordiamo che la prima frazione è durata due minuti in meno rispetto a quanto stabilito ordinariamente dal regolamento è durata 43 minuti Mattera c'è anche meno movimento comprensibilmente lì davanti per il Benevento energie che vengono meno Porcaro che si è fatto notare anche molto in fase di impostazione oggi di Campagnacci di Suola si libera di un avversario poi appoggia a Melara cross al centro la palla naviga al centro dell'area di rigore poi viene allontanata dalle parti di Mattera De Falco la metà campo del Benevento è stata invasa pochissime volte in questo secondo tempo la differenza di quanto era accaduto nella prima frazione difficilmente riusciamo a ricordare qualche iniziativa del lavello ma questo va detto è comprensibile ora c'è stata un'apertura sbagliata da parte dei calciatori giallorossi e la rimessa sarà proprio dei padroni di casa come ricordato anche da alcuni tifosi all'intervallo qui un match contro una squadra di Lega Pro quindi l'attuale Lega Pro mancava da circa 20 anni e il Benevento qui l'ultima volta è venuto nella stagione 74-75 prima giornata di campionato era un match in campo neutro a dire il vero perché si scontrarono al Pisicchio il Barletta padrone di casa il Benevento la partita terminò 2-0 per il Barletta il Benevento che terminò quel campionato concluse al quarto posto quel campionato di Serie C dopo la promozione dell'anno precedente dalla D comunque quindi un'avventura iniziata male ma comunque finita bene per una neopromossa qui c'è un brutto scontro di gioco al centro campo Marano era intervenuto e poi si è visto precipitare addosso un calciatore avversario resta a terra proprio per il colpo rimediato alla nuca Marano sicuramente non una bellissima scena ci auguriamo che si possa rialzare al più presto del centrocampista ex Casertana c'è un po' di apprezzione tempestivo l'intervento dei sanitari giallorossi ma è un colpo che dovrebbe essere facilmente assimilabile dal calciatore partenopeo Marano che lo scorso anno ha disputato 30 partite con la Casertana siglando due gol difficilmente vedremo in campo oggi il nuovo acquisto del benevento invece Troiani prelevato dal Chievo in prestito ma lo scorso anno protagonista nel Torino così come Bonifazi la formazione che ha vinto il campionato primavera Troiani in realtà ha anche un record quello di averne vinti due consecutivi perché l'anno precedente c'era riuscito proprio con la maglia dei Clivenzi attuali proprietari del suo cartellino mentre il compagno di squadra al Torino Bonifazi non figura nell'elenco diramato da Oteri per quest'amichevole e negli ultimi giorni si è anche allenato a parte al pari di Bianco terzino sinistro sfortunatissimo che dall'inizio della sua avventura in giallo-rosso raramente è riuscito ad effettuare due allenamenti consecutivi adesso c'è un'azione in verticale del Benevento Campagnacci per Marano che si è inserito benissimo chiamato un fuorigioco inesistente sentiamo di dirlo inesistente a tutti gli effetti perché Marano era partito con due metri di vantaggio rispetto alla linea difensiva è stato segnalato un offside che in questo caso non lo ha premiato per provare la caccia al 4-0 al poker quindi poker che il Benevento può raggiungere circa 20 minuti siamo al 26esimo difficilmente ci sarà recupero nella seconda frazione ma almeno 22 minuti verranno giocati almeno 18 voglio dire scusate verranno giocati quindi c'è tempo per per provare a tentare l'assalto ci prova adesso Marotta che insuperabile come un Panzer si libera di tre avversari poi Melara prova il cross al centro viene murato insistita l'azione di Marotta l'abbiamo visto più volte in queste circostanze adesso De Falco De Falco si libera di due avversari e ancora De Falco viene fermato all'ingresso in area di rigore però il Benevento è ancora in possesso di palla Campagnacci scivola poi l'appoggia Melara il cross è impreciso sarà rimesso a laterale l'impressione che Campagnacci si sia lasciato scivolare per evitare che il piede gli rimanesse piantato a terra il terreno non è in perfette condizioni almeno a quanto vediamo a quanto possiamo constatare dalla nostra postazione Mazzeo gira per la Somma la palla viene però presa arpionata dalla difesa del Lavello che rilancia lungo verso Matera non si passa la linea di centrocampo non c'è niente da fare il Lavello è davvero alla frutta per quanto riguarda la condizione fisica cross al centro qui si sfiora anche l'autogol con pallone che termina in calcio d'angolo dialogo tra Campagnacci e Mazzeo per capire chi dovrà battere il tiro dalla bandierina andrà Mazzeo con battuta corta proprio per Campagnacci forse sono detti proprio questo i due uno scambio tra Mazzeo e Campagnacci parla che torna Mazzeo sinistro al centro la palla che arriva Marotta deve girarsi viene fermato all'ultimo istante ma riparte Somma come un pedolino sulla fascia sinistra De Falco appoggia per Marano Somma a questo punto possiamo confermare che l'orientamento di Oteri è proprio quello registrato nelle precedenti uscite nessun cambio almeno in questi primi 75 minuti di gioco o 72 se preferite considerando i minuti mancanti della prima frazione Mattera verso Mazzeo controllo di Suola poi però viene fermato dal numero 14 dell'Avello adesso la squadra di Caprioli ha cambiato quasi tutti i calciatori del primo tempo cambi volanti per per il tecnico del Lavello che evidentemente non adotta la stessa filosofia di pensiero di Deuteri non ne ha bisogno vuole dare spazio a tutti vuole provare a trovare nuovi meccanismi le ambizioni del Lavello in eccellenza non sono ancora chiarissime detto Caprioli proverà ad avere ad ottenere un paio di calciatori nelle ultime giorni di mercato nel momento in cui riuscirà ad averli potrebbe far salire anche l'ambizione di questo club iscritto all'eccellenza della regione Basilicata un livello sicuramente non altissimo quello del campionato d'eccellenza Lucana almeno si paragonato a quello dell'eccellenza Campano a quello dell'eccellenza Pugliese che hanno ovvero a squadre per dire come Altamura in Puglia e Montesarchio in Campania giusto per citarne due ora Di Falco però lo scambio nello stretto scambio che non riesce ripetiamo c'è molta confusione in questa fase della partita mancano 15 minuti al termine Marotta si trova il pallone dalle sue parti poi Di Falco prova un'invenzione ha preseso troppo dal suo piede destro in questo caso aveva visto il portiere fuori dai pali e ha tentato una conclusione a sorpresa che però non ha sorpreso nessuno perché anche fuori misura qui il pallone sembrava buono per il numero 3 della della squadra di casa ancora una volta offside fischiato dal direttore di gara Matera pallone sulla destra per Melara per Marano Mazzeo Marano ancora un'apertura per Melara questo è il fondo deve vedersela con due avversari controllo di Campagnacci ancora una volta per Melara occhi chiusi cross al centro poi Somm e c'è il gol del Benevento 4 a 0 grande azione del Benevento in questo caso tutto nello stretto si sono trovati a memoria prima Campagnacci e Melara poi lo stesso Melara ha messo il pallone al centro e ha trovato Somm che ha firmato il 4 a 0 al 32esimo 4 a 0 per il Benevento quando abbiamo superato da due minuti la mezz'ora di gioco della seconda frazione sembra solo un prolungamento dell'agonia per il per il Lavello che adesso deve badare a non prenderne più del dovuto e anche più di quanto più di quanti ne meriterebbe perché per quanto ho visto nel primo tempo la squadra di Caprioli non merita un passivo pesantissimo Marano per Melara De Falco Mattera ancora un'apertura per Porcaro a cercare Melara che sicuramente dalla stagione che verrà si aspetta qualcosa in più rispetto a quanto ho visto lo scorso anno quando è stato appietato da diversi infortuni ora Marotta Marotta viene pescato da Campagnacci ci sarà rimessa dal fondo Marotta non si lamenta era stato il suo l'ultimo tocco dicevamo di Melara che lo scorso anno è stato frenato da diversi infortuni un gol per lui ma sole 19 presenze per un calciatore che era partito con la fascia di capitano quella che indossa anche quest'oggi è che quest'anno invece dovrebbe anzi è sicuramente sul sul braccio di Lucioni nuovo capitano della della strega che giocherà sicuramente domani contro il Torrecuso nell'ottica di questo di questo turnover se vogliamo chiamarlo così un turnover o meglio una 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 girandola effettuata da Dauteri una rotazione prova il lavello a gestire palla a centrocampo sulla destra non si sono sbocchi però provata qualche verticalizzazione De Falco invece amministra bene da padrone del centrocampo quale è stato in questa seconda frazione Marotta Somm pallone non è uscito De Falco apertura verso Melara che deve anticipare i tempi viene anticipato lui stesso però dal dal calciatore di Lavello il tiro il tiro di Oba numero 4 del del Lavello di origine del Burkina Faso bella iniziativa la sua si era messo in mostra in questa seconda frazione il centrocampista del Lavello che ha provato anche l'iniziativa ed è anche l'unico tiro in porta della seconda frazione del Lavello non c'è bisogno di un attacquino per metterli insieme al pari delle iniziative offensive delle folate offensive della squadra Lucana Viti e Lò per Mattera Campagnacci Marotta verso Mazzeo scambio dello stretto adesso si inserisce Campagnacci resiste a una carica Campagnacci il tiro di destro debole però è arrivato stanco il momento del tiro Campagnacci dopo una bella sgroppata un bel inserimento adesso proprio lui per Somma De Falco corto per Marano Mazzeo di tacco per Marotta senza neanche guardare l'iniziativa stavolta però non ha non ha partorito una bellissima giocata come era avvenuto invece in precedenza i due si trovano ma devono affinare ancora di più un'intesa che in vista del campionato al Benevento farebbe più che comodo Melara verso De Falco Porcaro 37 di gioco 4 a 0 per il Benevento Riti di De Falco Mazzeo Porcaro e Somma Mazzeo vediamo se prova il tiro Mazzeo allarga invece tutto verso Somma cross al centro di Somm verso Marotta palla deviata leggermente arriva Melara il tiro di Melara il 5 a 0 di Melara pocherissimo del Benevento trentasettesimo Melara iscrive il suo nome nel tabellino dei marcatori prima rete per lui in questo precampionato un bel destro su cui Russo Lillo nulla ha potuto il lavello si appresta a battere nuovamente a centro campo e la sesta volta in questo secondo tempo compresa quella del fischio d'inizio Mattera fa buona guardia su Oba Piscitelli a sinistra per Porcaro sale Porcaro a spazio poi appoggia Somma guadagna metri il Benevento Campagnacci può cambiare tutto per Marotta che chiama addirittura con un fischio il pallone il silenzio del fischio favorisce anche questo genere di particolarità il controllo di Oba viene fermato da Marano partita corta di Marano solita quantità di Porcaro Somma Vitiello per Marano c'è Marotta defilato sulla destra non lo serve vuole il gol Marotta forse l'unica cosa che mancherebbe a questo pomeriggio almeno per quanto riguarda le realizzazioni Marotta che ha provato in tutti i modi in varie circostanze a trovare il gol non c'è riuscito adesso Porcaro verso Marotta Mazzeo ancora Marotta scambio con Mazzeo rientra Mazzeo viene fermato dicevamo di Marotta che ha segnato un solo gol nelle nelle uscite di precampionato e all'esordio contro il Fiumicino suo il primo gol in realtà della stagione giallorossa nello scenario del Mancini Park Hotel contro il Fiumicino partita finita 2 a 0 caratterizzata anche dall'altra rete quella di Mazzeo Melara cross al centro c'è Marotta poi Campagnacci palo di Campagnacci il secondo palo per lui oggi dopo la punizione del primo tempo in quel caso in realtà aveva colpito la traversa ma anche in questo caso Marotta è stato sfortunato nel mancare la deviazione in prima battuta poi Campagnacci semplicissima quella conclusione all'apparenza ha colpito invece il palo pieno Mazzeo va via da solo Mazzeo potrebbe tirare Mazzeo rientra invece sul sinistro e poi è comodissimo il suo il suo tiro proprio con il Mancino per il 6 a 0 al 40esimo esatto di gioco partita che volge dunque al termine doppietta per Fabio Mazzeo che aveva messo in rete aveva depositato in rete anche il più semplice 2 a 0 la partita finisce qui con ben 5 minuti di anticipo in questa seconda frazione punteggio tennistico per il Benevento qui al Pisicchio di Lavello 6 a 0 per i giallorossi contro la formazione di casa assegno lo ricapitoliamo De Falco Mazzeo Porcaro Somm Melara e di nuovo Mazzeo tutte le reti nel secondo tempo per la squadra di Auteri che nel primo tempo si era fatta invece bloccare sullo 0 a 0 da quella di Caprioli bene dal Pisicchio di Lavello è davvero tutto un saluto e ringraziamento da Francesco Carluccio e buon proseguimento con la programmazione di 8 Channel 696